Questo tema della presenza di una società civile e di uno Stato che potrebbero dialogare e da lì far nascere istanze di movimento è naturalmente un tema squisitamente ottocentesco e d'altra parte anche al centro della riflessione di Giuseppe Civile l'Italia e l'opinione pubblica francese, il filtro dei giornali. E a lui do la parola. Grazie. Io proverò a parlare di un periodo molto più circoscritto, un decennio circa e di un tema molto più basso che è l'immagine dell'Italia così come viene fornita dalla stampa francese negli anni 90 dell'Ottocento. Dovrei dare una serie di motivazioni per questa scelta se dessi le motivazioni non farei la relazione e quindi in qualche modo rinuncio a questo confidando sul fatto che voi ne sapete più di me in proposito e quindi capite che un minimo di senso c'è in questa scelta. Ricorderò soltanto che alla fine dell'Ottocento l'opinione pubblica diventa un fenomeno socialmente diffuso, socialmente ampio che in quel periodo la stampa occupa praticamente tutto lo spazio immaginario dell'opinione pubblica. È quello lo strumento. Non ce ne sono di strumenti alternativi che nella Francia della Terza Repubblica una serie di interventi che vanno dalla legge sulla libertà di stampa alla realizzazione di una rete ferroviaria secondaria agevolano la diffusione dei giornali a livello nazionale e per quanto riguarda i due paesi ricorderò che l'Italia ormai è uscita la poesia del risorgimento come direbbe la Rial è definitivamente tramontata e invece è costretta con tutte le sue fragilità con tutti i suoi problemi interni a confrontarsi con un mondo che la pressa in qualche modo che le chiede di uscire allo scoperto di entrare in dei giochi che è stato detto ripetutamente per molti versi sono più grandi di lei e questo decennio è un decennio tremendo io ricordo rapidamente in sequenza 93 scandalo della banca romana sembra che tutto sia per crollare 94 fasci siciliani sembra che tutto sia per crollare 96 adua è come dire la fine sul piano dei rapporti internazionali 98 fatti di Milano repressione eccetera lo stato in pericolo la crisi di fine secolo 900 per chiudere il regicidio e devo dire che la stampa francese è molto attenta e ognuna di queste tappe dice crolla, crolla, crolla crolla la monarchia finisce l'unità invece non crolla va avanti la Francia è interessante questo periodo perché è il punto più basso dei rapporti italo-francesi dall'unità fino a quel momento ci sono tutta una serie di motivi motivi politici di relazioni internazionali l'Italia come è noto lasciata solo la Francia nel 70 la Francia all'inizio degli anni 80 ha fatto lo sgarbo della Tunisia l'Italia è andata a cercare di fare grande politica sotto l'ombrello della triplice ci sono le guerre doganali legate al protezionismo insomma c'è da scegliere sicuramente non è un momento di grandi rapporti e ovviamente l'immagine dell'Italia alla stampa francese di questi anni diciamo non è serena e quindi non aspettiamoci grandi cose l'ultima osservazione da fare è che in realtà per certi versi la situazione francese presenta delle possibili analogie con quella italiana perché se l'Italia adua la Francia ha il 70 alle spalle se in Italia l'apparato istituzionale sembra scricchiolare a ogni momento la terza repubblica è ancora in via di formazione per così dire non si consoliderà se non con l'avvento del nuovo secolo perché se in Italia muore un re e in Francia pochi anni prima muore un presidente della repubblica ammazzato da un italiano peraltro perché i problemi politici della crisi del 98 in Italia in qualche modo trovano un corrispettivo in altre crisi francesi il bulangismo prima il caso Dreyfus poi eccetera insomma i due paesi pur guardandosi in cagnesco sono meno lontani di quanto possa sembrare e questa probabilmente è un aggravante della situazione la stampa francese presenta un'immagine dell'Italia ai suoi lettori che sono appunto lettori di varia estrazione sociale di varia natura di vario livello culturale che io ho provato a dividere su tre in tre approcci diversi il primo è la nazione e il popolo l'Italia e gli italiani in senso generale o generico se volete il secondo è lo stato italiano quindi un soggetto politico istituzionale il terzo sono gli italiani in Francia cioè gli immigrati che è il contatto più diretto e se vogliamo anche più traumatico da questo punto di vista fra le due popolazioni e quindi quello che ha l'impatto più immediato sull'opinione pubblica francese naturalmente questa è una divisione di comodo in realtà queste cose sono vasi comunicanti cioè una sconfina nell'altra una si richiama all'altra né da questo si può tirare fuori un quadro coerente la stampa non offre e l'opinione pubblica non chiede un quadro coerente esaustivo l'opinione pubblica chiede direi direbbero i nostri colleghi francesi un outillage mental anzi io direi un outillage discursif più ancora che prima ancora anzi che mental al quale attingere a secondo della necessità diciamo per orientarsi in congiunture particolari allora il primo di questo livello di questi livelli l'Italia e gli italiani l'Italia e gli italiani si muovono su un paio di idee forti per così dire che peraltro sono anche abbastanza contraddittori ma questo proviamo a spiegarlo possono esserlo tranquillamente naturalmente la prima è che l'Italia è un paese frammentato che l'Italia è un paese fatto mettendo assieme pezzi diciamo diversi che faticano a stare insieme c'è un manuale di geografia del 1896 dove si riprende la storia dell'espressione geografica e si spiega che territorialmente l'Italia non ha un baricentro diciamo che possa fare da crogiuolo a un'unità nazionale e quindi per molti secoli non a caso è stata solamente un'espressione geografica quando si parla dell'esercito italiano di solito se ne parla per dire che gli italiani sono cattivi soldati ovviamente si ricorda che degli ufficiali non basta dire che sono italiani si dice è piemontese è toscano è napoletano o è veneto perché questa identità è rimasta e fa testo in qualche modo poi si ricorda anche ma questo valore risparmio che insomma gli unici soldati bravi sono i piemontesi i toscani hanno un temperamento artistico ovviamente i lombardi hanno un temperamento commerciale e il resto potete anche immaginarlo da soli naturalmente contraddittorio con questo c'è invece una forte tipizzazione dell'italiano c'è un modo di fare italiano c'è un modo di agire italiano quindi questi benetti italiani che sono diversi in realtà in altre circostanze risultano molto simili molto omogenei diciamo molto simili l'uno all'altro sono come vedete modi diversi di rilevare delle realtà che però sono appunto filtrate sono fortemente filtrate io vorrei ricordare a questo proposito un paradosso il paradosso è che nell'eccidio di Egmort del 1893 dove otto operai italiani vengono trucidati e molti altri scampano a questa sorte per pura combinazione che è l'episodio più grave dell'intolleranza diciamo nei confronti dei lavoratori italiani le squadre degli stagionali che vengono soprattutto dal Piemonte e dalla Liguria a lavorare nelle saline di Egmort sono organizzate dai caporali per provenienza di villaggio perché se non fosse così non si capirebbero l'una con l'altra quale migliore esempio di Italia frammentata ebbene lì è la caccia all'italiano tutti questi che non riescono neanche a parlarsi fra loro venendo da paesi che stanno a 100 km di distanza in quel momento diventano tutti italiani un caso tragico di nazionalizzazione ma anche questo è un caso di nazionalizzazione allora il popolo invece gli italiani in quanto tali non più diversi ma uniti hanno due caratteristiche anche queste che sembrerebbero stare male assieme da un primo punto di vista sono un popolo bambino questa cosa ricorre spesso un popolo giovane un popolo bambino che come tutti i bambini come dire spensierato c'è questa ansusianz dice un giornale che è tipica della razza latina ma soprattutto fra i latini della razza il termine razza ricorre spesso della razza italiana pensa all'oggi non pensa al domani scherza eccetera e naturalmente come tutti i bambini può essere maldestro e inopportuno un'espressione carina a questo proposito è quella che riguarda la naiveté grossière d'un procédé tra gli italiani in quanto naif e in quanto grossier e l'altra faccia invece della medaglia è che gli italiani sono furbi sono scaltri sono doppi sono scafatissimi diciamo sono in una parola che è una parola chiave della stampa francese in questo periodo machiavellici e essere machiavellico un articolo di fondo intitolato machiavelli lo spiega lo precisa significa esattamente anzi dice in tutte le lingue machiavellismo diventa sinonimo di malafede e di perfidia quindi da questo punto di vista questi bambini sono dei bambini un po' terribili e allora machiavellismo ereditario nipotini di machiavelli c'è una ruerie italiana contro la bonhomie francese insomma un repertorio di questo genere come fanno a stare se è necessario che stiano assieme questi due aspetti una chiave forse c'è e la chiave sta nella dimensione pittoresca che si continua a attribuire alla realtà italiana perché nella dimensione pittoresca naturalmente tutto questo riesce a convivere anche qua io vi riempirò un po' di citazioni che naturalmente ho tradotto per risparmiarvi il mio francese diciamo e vi prego di credere che al contrario di una bella espressione che c'era nel Figaro non è stato un traduir pur trahir no un tentativo di traduzione fedele questo carattere pittoresco appunto è perfetto cioè la compresenza di questi caratteri è perfettamente disegnata in una in una immagine di cui si fa dono a Crispi Crispi è ovviamente la bestia nera dei francesi in questo periodo dove si dice questo curioso personaggio degno di figurare nella commedia italiana dove le furberie e le doppiezze sono in grande onore no? allora e qui c'è una sequela c'è un florileggio si potrebbe stare qua fino a stasera diciamo a raccontare i fatti curiosi che i francesi trovano vedono in Italia e che si fanno carico di segnalare all'opinione pubblica francese intanto ci sono alcuni aspetti che li sorprendono semplicemente un paese di cui si ricorda continuamente l'estrema miseria un paese sull'olo del collasso finanziario un paese dove il popolo è affamato oggi o domani si rivolterà diciamo è un paese dove poi l'inviato che va a vedere alla scala la prima del Falstaff dice un'animazione di questo genere in Francia è inimmaginabile e l'altro inviato che segue a Roma la visita del Kaiser Guglielmo II quando vede la parata delle carrozze a sua volta dice chi se l'immaginava in un paese così povero ci sono ancora carrozze di questo lusso e le feste che dà il Duca di Sermonita o che dà il Principe Doria in nessun altro paese si vedrebbero feste private così fastose e in una cornice talmente preziosa insomma quest'Italia è intanto contraddittoria e poi è un paese dove succedono cose stranissime dove il marchese Notar Bartolo è assassinato in treno avendo come scorta due camerieri due domestici due gendarmi e avendo sullo stesso treno altri 46 gendarmi ma viene assassinato a Manzalva diciamo dove a Napoli esce dopo quattro anni un ambo legato a San Vincenzo quindi particolarmente gettonato e premia in un solo colpo 40.000 persone e dove quindi ci sono 24 ore a base scrive il cronista di Cocozielli Friarielli questo lo scrive in corsivo diciamo e in italo napoletano e poi si dà l'assalto alle ricevitorie insomma una cosa folle e l'Italia è il paese dove a Roma per le nozze d'argento dei reali si promette un libretto di risparmio ai nascituri e la media dei nascituri è di 40 al giorno ne nascono 426 nelle 24 ore indicate e dove e poi finisco perché non vi voglio tediare più di tanto ma insomma il repertorio è ampio e dove il direttore della sede romana del Banco di Napoli trascinato in tribunale perché dei soldi ha fatto un uso poco corretto si riconosce dice sì vi consento di riconoscermi ladro ha fatto sparire 2 milioni e 400 mila lire dell'epoca ma quando gli viene chiesto di dire chi ha avuto questi soldi si offende e dice non sia mai non sarò mai un delatore ho tre figli di cui devo riguardare l'onorabilità e via di seguito allora in un paese così ah e poi ci sono i fasci siciliani i fasci siciliani sono interessanti perché ritornano continuamente il Figaro che è un giornale che ha un target alto è un giornale attrezzato diciamo molto più nuancé di altri giornali più popolari si interessa molto di questo fenomeno intervista esponenti politici appena finisce la censura manda uno a fare un reportage in Sicilia e approfondisce una serie di cause però anche lì non può mancare il pittoresco il pittoresco in questo caso consiste in questi contadini che come dice il giornalista pregano Dio la mattina la si riescono e vanno a tagliare le teste perché sono dei rivoluzionari come è possibile tutto questo la spiegazione è molto semplice in Italia tutto è possibile sarebbe impossibile un altro paese ma in Italia il risultato è di una combinaison nazionale allora che senso ha questo tutti questi avvenimenti che vengono catalogati come droll curieux étrange ha un doppio senso intanto di risparmiare spiegazioni storiche di confinare una sorta di antropologia immobile il paese e l'altro senso étrange è ovvio è parente stretto di étrange è di prendere le distanze sono diversi sono strani noi siamo un'altra cosa secondo livello è quello politico qua la cosa è più circostanziata ovviamente e gli organi di stampa forniscono in realtà una versione abbastanza comune che riassunta anche perché è storia diciamo nota e molto meglio nota ad altri che sono qui che a me sta in questi termini l'unità d'Italia allo Stato italiano è nato col contributo fondamentale alcuni dicono oltre che col contributo fondamentale è nato per esclusivo merito diciamo l'Inghilterra si diceva prima i francesi dicono che è della Francia questo merito l'Italia per tutta risposta ha lasciato sola la Francia nel fatidico 1870 poi ha approfittato della sua sconfitta immaginando di prendere il posto in qualche modo nel concerto europeo si è rifugiata sotto l'ombrello della triplice per provare a giocare alla grande potenza ma in realtà questo è stato un disastro terribile perché è una politica avventurista e soprattutto una politica che costa troppo e che l'Italia non si potrebbe permettere spende un patrimonio per armarsi diciamo per una guerra che forse non farà mai si spera che non faccia mai e questo l'ha portata sull'orlo della bancarotta nonostante ciò l'Italia preoccupa molto preoccupa molto perché impegna tatticamente se non altro la Francia sulle Alpi e sul Mediterraneo mentre invece il nemico è ovviamente alla frontiera tedesca soprattutto e preoccupa molto perché nella triplice è ritenuta la variabile impazzita cioè il paese che potrebbe fare il colpo di testa e aprire le ostilità per un appunto per uno scatto improvviso tanto più probabile quanto più la crisi interna del paese si aggrava e questa si presenta come la possibile unica via di uscita gli artifici di questa traiettoria sciagurata dello Stato Unitario sono due sono Crispi ovviamente Crispi Potifis de Machiavelli questo è ovvio cattivo genio del popolo italiano e Re Umberto che si è fatto come dire sedurre da queste prospettive imperiali che Crispi gli presenta e l'ha seguito in questo cammino rovinoso naturalmente poi su questo si basano delle versioni discordanti io vorrei citare rapidissimamente una versione dell'unità che è del Petit Journal il Petit Journal è il primo grande organo è l'apripista della stampa di massa è un giornale che tira più di un milione di copie al giorno in quel periodo e quindi fa opinione diciamo allora il Petit Journal dice non è in questione l'indipendenza legittima e rispettabile dei popoli raggruppati artificialmente sotto la bandiera della famiglia regnante ma di questa unità conquistata con l'intrigo e con la violenza rivolta contro la tranquillità dell'Europa e gli onesti interessi della civiltà associata a un bisogno di perversione di distruzione di iniquità e questa è la ricostruzione ex post dell'unità d'Italia il Petit Parisien che è un altro giornale di massa che nasce un po' dopo e nasce come dire il Petit Journal è un giornale moderato di centrodestra il Petit Parisien è un giornale moderato di centrosinistra quindi piscano come è noto nello stesso bacino diciamo di lettori ma il Petit Parisien in quanto tale è meno accanito come dire meno prevenuto dice la lotta per l'unità era contraria al genio alle tradizioni degli italiani che sono stati per secoli lombardi fiori e tizzo non italiani ma altro e che se ne ricordano però Vittorio Emanuele portava due grandi idee forze queste due grandi idee forze erano la politica di potenza e uno stato parlamentare con queste due grandi idee forze in qualche modo e approfittando della situazione è realizzato l'unità il capolavoro dell'unità è la spedizione dei Mille la spedizione dei Mille che in un giornale benivolo ma ricordando l'aspetto come dire pittoresco dell'Italia viene paragonata è simile alle gesta di Pizarro e di Cortes che con pochi filibustieri si impadronino del Perù e del Messico e Garibaldi con pochi filibustieri si impadronisce invece dell'Italia meridionale mai come in questa occasione l'abilità italiana apparve con più evidenza perché Vittorio Emanuele fa benissimo il doppio gioco da bravo Machiavellico anche lui e quindi la conclusione di questa tesi sull'unità è da tutto ciò risulta che l'unità italiana è stato il risultato di un concorso inaudito di circostanze favoribili da cui i uomini di prim'ordine hanno tratto vantaggio con estrema abilità queste sono letture come dire che vengono offerte al pubblico storico politiche che vengono non a caso tutte e due all'indomani di Adua Adua è un gran respiro di sollievo per la stampa francese che dice ah finalmente come dire l'Italia si è strappata le unghie da sola e quindi ci dà meno preoccupazione di prima ma in realtà negli anni precedenti Adua quello che conta nella stampa su questo piano è il costante allarmismo perché la guerra è ogni giorno alle soglie la guerra è ogni giorno alle soglie e la guerra è alimentata l'idea della guerra il timore della guerra è alimentato da una campagna di stampa dissennata che devo dire ovviamente viene fatta da tutte e due le parti io qua a corredo di questo ci vorrebbe la stampa italiana che dice della Francia cose non più tenere diciamo di queste ovviamente ma che veramente altro che pittoresco questa campagna di stampa è veramente pittoresca pittoresca ma drammatica nella capacità di allarmismo che esercita su un'opinione pubblica che questo sa questo viene a sapere della situazione e viene a sapere che la Maddalena è un'isola misteriosa dove si sta costruendo una una gibilterra italiana che deve spezzare l'asse fratolone e biserta perché domani comincia la guerra e nel Mediterraneo bisogna cambiare le carte in tavola viene a sapere che in Sicilia si fanno arrivare 60.000 uomini dell'esercito non per reprimere i fasci siciliani come si dice ma per tentare l'invasione della Tunisia quindi ancora una volta per scatenare la guerra viene a sapere questa è carina perché ufficialmente lo viene a sapere da una lettera che un italiano immigrato spedisce che si dichiara repubblicano socialista spedisce al giornale e dice guardate che anche le prefetture sanno che fra Marsiglia e la frontiera ci sono 200.000 italiani immigrati e che di questi 200.000 italiani moltissimi sono organizzati e addestrati per far saltare i ponti della ferrovia appena scoppia la guerra e quindi state attenti l'Italia ripeto risponde a modo su risponde alla pari devo dire ne ricordo solo due perché sono particolarmente carina una perché ha ancora a che fare con i fasci siciliani mentre in Francia si dice Crispi ammassa truppe in Sicilia per attaccarci in Tunisia in Italia si dice la Francia dalla Tunisia ammassa truppe per invadere la Sicilia approfittando dei fasci in più Amilcare e Cipriani è d'accordo con gli anarchici francesi li faranno venire in Sicilia a fomentare i fasci perché fanno d'apripista all'invasione francese e l'altra carina perché molto di attualità è che la Francia non potendo batterci in campo aperto ci affama perché la borsa francese lavora a far crollare i nostri titoli di Stato e questa è un'altra forma di guerra sono i poteri forti diciamo che ci perseguitano dalle origini ai giorni nostri come come è noto insomma questa cosa terribile spinge a un certo punto Le Figaro che ripeto un giornale cotornato per così dire a invocare una tregua in questa guerre de plume peccato che tre giorni prima Le Figaro che ha scritto l'articolo attention la Sicile e ha detto Crispi mette l'esercito là per invadere la Tunisia però invoca questa tregua diciamo nella guerre de plume ma la guerre de plume è interessante intanto perché testimone la Francia in quel momento è isolata l'Inghilterra è ancora un paese che sembra simpatizzare in alcuni casi addirittura per la triplice e certamente simpatizza per l'Italia la Russia cementerà di lì a poco un rapporto privilegiato con la Francia ma in questo momento non l'ha ancora fatto e allora noi in questo vediamo in questo vediamo in realtà già al lavoro sull'opinione pubblica a prescindere dal realismo di queste informazioni la maggior parte delle quali sembrano abbastanza povere di realismo vediamo già in funzione una sorta di dilemma di sicurezza d'uso del popolo cioè che allerta continuamente alza l'attenzione il livello di attenzione dell'opinione pubblica su una catastrofe che è prossima ad arrivare terzo livello l'immigrazione sull'immigrazione fra l'altro o meglio sui problemi legati in questa fase all'immigrazione italiana ci sono due cose recenti c'è un libro di Patrizia Salvetti dell'angeli che fa una ricognizione di tutti i casi di conflitti diciamo avvenuti in Francia dai primi anni 80 fino ai primi anni del 900 e quindi è una mappatura ampia e c'è soprattutto una monografia che a me pare bellissima di Gerardo Ariel sui fatti sui fatti di Egmort il massacro des italiani che è importante per il modo in cui è impostata l'analisi ma non è questo il punto io di questo si sa come dire è un argomento coltivato qual è il problema il problema è che la Francia è un paese di immigrazione italiana stanziale e stagionale che nella fase finale dell'800 questi flussi di immigrazione aumentano e però vanno a intercettare da un lato la crisi economica che colpisce anche la Francia e non solo l'Italia e dall'altro un nazionalismo aggressivo che sempre più vede in questi elementi un argomento di polemica per così dire il risultato è che le tensioni che ci sono sempre state nel merito acquistano un valore politico diventano linguaggio politico e su questo punto io vorrei semplicemente semplicemente si fa per dire poi non so come ci riuscirò far vedere come la stampa opera costantemente una sorta di riduzio ad unum di un fenomeno che invece è ovviamente molto complesso e variegato anche qua c'è una immagine dell'italiano immigrato del lavoratore italiano naturalmente l'immigrato è per definizione un lavoratore e anche questa presenta una doppia faccia la prima faccia io uso le parole del Figaro che lo dice molto meglio la sobrietà l'accanimento nel lavoro per un infimo salario la passione per il risparmio detta così è la faccia di un lavoratore più che ammirevole però completo diciamo questo era un inciso che sta dentro un discorso più ampio e che esordisce così per la concorrenza nel lavoro che producono ci sono tre categorie di emigranti che si attirano l'avversione generale gli ebrei i cinesi e gli italiani e poi viene la storia della sobrietà che prosegue così l'assenza di spirito d'associazione o l'esclusivismo nazionale nell'associarsi la non assimilazione agli elementi indigeni tutte cose che rendono l'ebreo il cinese e l'italiano odioso ai lavoratori di altre nazioni qui c'è come dire il tema economico della concorrenza che diventa diventa caldo in questa fase di crisi di crisi economica e di una concorrenza che è ritenuta spesso una concorrenza sleale sono temi abbastanza noti diciamo così e però poi c'è la seconda faccia questo operaio sobrio sparagnone diciamo che si carica di pesi che gli operai francesi non riescono il problema di Egmort nasce perché nelle saline le squadre di italiani che fanno il lavoro più pesante tengono ritmi che i francesi non riescono a tenere e poiché sono pagati a cottimo la cosa ha delle conseguenze tragiche questo tipo di operaio stranamente ha un'altra faccia anche apparentemente contraddittoria è socialmente pericoloso è un attacca a briglie è un rissoso è appunto uno che colpisce a tradimento insomma è al limite della delinquenza è un elemento socialmente a rischio c'è un altro quotidiano Le Matin che fa una descrizione singolare diciamo tanto da presentare il crimine italiano come una anche questo un fatto tradizionale Le Matin dice la domenica sera dopo questi balli di marinai che conservano sempre nei villaggi marittimi della nostra costa un relativo ritegno e l'apparenza di una festa di famiglia si trovava invariabilmente invariabilmente dietro la porta il cadavere di qualche bel ragazzo della nostra razza della razza francese col petto trafitto dal colpo di coltello di un italiano geloso e questa è la seconda faccia peraltro il perito chiamato a tracciare il profilo psicologico di Caserio che è l'omicida del presidente Carnot scriverà nella perizia l'Italia è la terra classica dei crimini di sangue essendo le armi preferite taglienti appuntite l'omicidio improvviso degli italiani è un articolo di esportazione troppo spesso preparato per il nostro paese ora è chiara qua la riduzione ad unum perché il primo identikit quello degli operai come animali da soma riguarda un segmento molto preciso della nostra immigrazione che è per l'appunto quello degli operai stagionali e che sono non a caso quelli che muoiono a egg mort e quindi non è rappresentativo certamente di tutta l'immigrazione italiana che è un'immigrazione di diverse centinaia di migliaia di persone molte delle quali stanziali e la seconda caratterizzazione è ancora più settoriale se tutti questi centinaia di migliaia di immigrati lavorassero anche di coltello almeno tutti i giorni di festa sarebbe una strage insomma e chiaramente non è così però come dire la parte va per il tutto anche qua cos'è che stabilisce il nesso com'è possibile che persone lavoratori indefessi sobri risparmiosi eccetera trovino la voglia e il tempo di fare i delinquenti ecco qua secondo me è l'elemento del costume che consente il passaggio da un aspetto all'altro è l'elemento della moralità che lega un atteggiamento ai limiti dell'umano sul piano del lavoro alla disumanità del delinquente questo lo denunciano gli stessi italiani c'è un bollettino degli italiani in Francia che a un certo punto si lamenta e dice noi ci facciamo beffi alla grande di questi mangiatori di maccheroni dicono i francesi loro viziosi fino al midollo perché naturalmente sei vizioso tu o sono vizioso io non se ne esce diciamo accusano gli italiani di praticare le abitudini più basse il menage à trois degli italiani è diventato proverbiale i francesi trattano gli italiani da corrotti e da ignoranti e lo stesso articolo del Figaro che ho citato prima prosegue così proprio facendo vedere questo passaggio fra i due aspetti guardateli gli italiani a Parigi a Marsiglia a Londra nelle città d'America e d'Australia vivono in speciali quartieri conservando le loro le antiche abitudini e il loro miserabile stile di vita hanno il loro ghetto la loro piccola Italia avete letto la descrizione di questi quartieri è un degrado una sporcizia orrenda vi si risparmia ah certo e vi si è sobri sobri in igiene quanto in morale e qui il passaggio se improvvisamente aperto e per non lasciare come dire senza una graduatoria questo rapporto fra ebrei cinesi e italiani sembra una barzelletta a dirla così ma invece la cosa è seria si aggiunge sono una orribile piaga sociale ebbene anche dal punto di vista intellettuale quanto a scuole libri giornali l'operaio italiano consuma meno che l'ebreo e il cinese e ce ne vuole sottointeso è di una crassa ignoranza stabilito questo passaggio c'è un terzo passaggio che viene facile perché se uno è socialmente pericoloso sul piano privato lo può essere anche sul piano pubblico e poiché dal 92 al 94 soprattutto la Francia è presa in una tenaglia anarchica di attentati di iniziative terroristiche viene fuori l'italiano anarchico da questo punto di vista l'omicida del presidente Carnot è perfetto l'omicidio è un panettiere lombardo sante caserio qualcuno se lo ricorda sono anche delle canzoni anarchiche che parlano di caserio è perfetto è italiano è un immigrato vive a set e ha due debolezze come dire che sul piano della propaganda servono il piatto fatto gli viene in mente da andare a ammazzare il presidente di Carnot a Lione il 25 giugno il 25 giugno è l'anniversario di Solferino cioè di una delle grandi battaglie in cui i francesi con gli italiani hanno realizzato l'unità d'Italia e quindi questo infatti dà la stura diciamo a una serie di commenti che potete immaginare l'altro grande assist diciamo che Caserio dà alla propaganda è che pugnala naturalmente ammazza Sadi Carnot con una pugnalata e nasconde il pugnale in un mazzo di fiori e Machiavelli anzi io direi borgia allo stato puro e qui si scatena ovviamente la stampa diciamo si scatena la stampa sul machiavellismo degli italiani si scatena la stampa sull'Italia che è la centrale del terrore oddio se vedete l'elenco che tutti i giornali fanno di tutti gli attentati riusciti e falliti però per gli italiani qualcosa c'è qualche merito c'è al solito è la reduzione ad unum che è pericolosa non sono i fatti in se stessi quando si sente parlare di queste cose si è ovviamente tentati appunto di rapportare questo tipo di xenofobia a quello attuale e bisogna però secondo me avere due precauzioni la prima è che il termine xenofobia non è ancora in uso verrà fuori all'inizio del novecento lo ricorda proprio Noiriel in quella ricerca in questi anni la xenofobia si costruisce fa le sue prove almeno nell'accezione moderna del termine la seconda è che di solito noi abbiamo a che fare con un tipo di xenofobia dove la simmetria fra i popoli in gioco è molto più forte di quanto non lo sia qua qua quello che in qualche modo aggrava per così dire la situazione è che il paese infatti i giornali francesi non parlano mai di xenofobia parlano di odio fra popoli parlano di sciovinismo naturalmente dicendo che la Francia è ingiustamente accusata di praticare sentimenti di questo genere quelli che sono in ballo sono popoli vicinissimi etnicamente culturalmente storicamente i poveracci che rubano il panno agli operai francesi sono gli stessi che richiedono del paese che richiede la pari dignità sul piano internazionale che vuol fare la grande potenza eccetera questo naturalmente aggrava la situazione io sono quasi in conclusione vorrei solamente appunto fare un'ultima riflessione l'ecirio di Egmort e l'attacco agli italiani che si scatena subito dopo l'assassinio del presidente Carnot a Lione ma non solo a Lione sono i due episodi più gravi di intolleranza verso l'immigrazione italiana in Francia detto questo hanno solamente questo in comune tutto il resto configura situazioni assolutamente diverse assolutamente diverse perché da un lato abbiamo una grande città e dall'altro Egmort che è un paesino perché da un lato abbiamo un attentato politico e dall'altro un eccidio che comunque nasce da questioni di lavoro perché a Egmort i protagonisti della caccia all'italiano sono soprattutto anche loro operai stagionali non sono i residenti che peraltro li appoggiano ma chi fa l'azione in prima persona sono dei poveracci come gli italiani sono i cosiddetti trimar gente ai margini della società che cerca anche lei di raggranellare qualche spicciolo diciamo in questo tipo di lavori a Lione è la popolazione residente e mentre a Egmort si attaccano gli italiani gli operai a Lione si attacca soprattutto le proprietà e i beni e il saccheggio gli italiani sono espulsi dalle case succedono cose di pazzi le case supposte abitate dagli italiani sono segnate con il gesso con un segno bianco poi si va lì se sono italiani li si butta fuori e si saccheggia la casa si saccheggiano gli esercizi commerciali si saccheggiano i ristoranti sono due situazioni se noi le guardiamo da questo punto di vista assolutamente incomparabili in verità invece la stampa riesce a metterle sullo stesso piano la stampa francese riesce a metterle sullo stesso piano perché il problema è sempre lo stesso è la presenza straniera che è diventata un problema ci sono giornali ancora il petit journal che non la mandano a dire è un giornale appunto che non è estremamente fazioso non è ideologizzato per leggere qualcosa di veramente ideologizzato bisogna leggere per esempio la croix la croix è un giornale che quando sa che Carnot è morto assassinato ovviamente deplora il fatto ma non rinuncia a far notare che è morto mentre andava a teatro se fosse morto mentre andava in chiesa sarebbe stato meglio il fatto che andava a teatro e non in chiesa è un segno dei tempi è un limite diciamo della vittima questo per intenderci il petit journal non è così però che cosa scrive il petit journal bisogna mettere dei limiti all'immigrazione se no dopo i cinesi d'Europa le cinoa d'Europa siamo noi arriveranno a fini che arrivano anche quelli veri come infatti del resto l'insieme della politica estera economica e sociale è regolato dalla medesima legge ogni nazione e la nostra mutilata ci si deve impegnare più di ogni altra si adopera a liberarsi ad affrancarsi dalla impura ingelenza degli elementi stranieri è il presentimento di un pericolo troppo reale troppo prossimo che impone questa preveggenza e questo risanamento questo è il petit journal il Figaro che ripeto è il giornale più togato e più nuancé nega tutto questo dice non c'è mai stata questione di odio fra popolazioni questa è una strumentalizzazione politica che fanno gli italiani non c'è nulla di tutto questo lo dice dopo Egmort lo dice a maggior ragione dopo l'assassinio di Sadie Carnot ma nella stessa primavera che precede l'agosto di Egmort ha ospitato una serie di quattro articoli di Maurice Barres che si intitolano Contro l'étranger e subito dopo presenta lo stesso fa anche il petit Parisien le statistiche sull'immigrazione sono troppi sono quelli che delinquono di più stanno nelle carceri a nostre spese rimandiamoli tutti a casa e questo discorso che è un discorso sociale si ricollega immediatamente al discorso politico rimandiamoli tutti a casa voglio vedere che fa Giolitti quando gli mandiamo 200.000 italiani e dicono dacci da mangiare che mangiano a spese nostre vuole fare la guerra gli diamo cavallerescamente un po' di soldati gli immigrati italiani tornano a casa e li mette a fare la guerra devo dire che Le Figaro sembra a me il più impressionante di questi giornali perché non fa ideologia è estremamente reciso ma è reciso in chiave come dire di realpolitik nel polemizzare con l'Italia e con gli italiani sapete che dopo Egmort in Italia ci sono una serie di grandi manifestazioni antifrancesi in alcune delle quali compare la bandiera tedesca insomma l'atmosfera è quella e appunto si trasforma un fatto particolare una rissa fra opera in un fatto internazionale nell'odio di un popolo verso un altro popolo cosa che non esiste assolutamente e Le Figaro lo scrive così e lo scrive un giornalista che si chiama Emil Berr lo dico perché non so se è parente di Henry tu questo stai pensando lo dico perché lo richiamerò alla fine perché mi fa gioco diciamo scrive una cosa di questo genere gli italiani sputano i nostri connazionali è quello che succede in Italia trascinano nel fango le nostre bandiere infrangono gli stemmi dei nostri consolati dimenticano che ciò potrebbe essere pagato molto caro da quei loro compatrioti che la corrente incessante dell'immigrazione italiana conduce e stabilisce presso di noi mette in balia delle nostre leggi e il cui destino insomma dipende dal tipo di ospitalità che ci garba di offrire loro qua non c'è ideologia non c'è purezza non c'è sanità ma è di una durezza straordinaria e l'Italia non si lamenti gli italiani godono presso di noi nonostante incidenti che la loro malevolenza ingigantisce sono morte otto persone di una situazione solida invidiabile rispetto a quella di molti loro compatrioti in Italia non bisogna che a poco a poco la nostra tolleranza delusa scoraggiata esasperata dalla malafede italiana si stanchi e anche da noi esploda il grido di collera della folla la folla è quella che legge il giornale peraltro sì ho finito non vi richiamerò tutte le cose che si dicono diciamo della vocazione appunto al terrorismo e all'anarchismo dell'Italia ricorderò solo che poiché tutti sono d'accordo che è l'Italia la matrice diciamo dell'anarchismo internazionale ancora una volta il Figaro prova a darne una spiegazione perché gli italiani la tradizione le abitudini alla violenza alla vendetta tramandate nei tempi in alcune regioni italiane quasi pensa al mezzogiorno Brescia e Toscano e come si chiama Caseri e Lombardo vabbè poi una tendenza tutta particolare al misticismo politico al delirio mistico la Napoli delirante alla ricerca del martirio e infine uno sviluppo molto sensibile di quei cattivi consiglieri che sono l'orgoglio la vanità la ricerca della gloria qui il cerchio diciamo fra gli stereotipi si chiude perché dall'individuo siamo passati inavvertitamente al quadro della politica italiana post-unitaria io vorrei se ovviamente il maestro di Chiavi me lo consente concludere sovrainterpretandola la chiusura di un articolo sovrainterpretandola perché mi fa da salvacondotto per avervi afflitto diciamo fino a questo momento e il famigerato Emil Berr quello che ha scritto quelle cose lì il 25 giugno anniversario di Solferino in cui avviene l'omicidio del presidente Carnot viene mandato a fare un pezzo sui festeggiamenti di Solferino alla società franco-italiana va assiste e poi io me lo immagino seduto al tavolino che deve scrivere il pezzo comincia a scrivere e scrive quello che ha visto abbracci brindisi rievocazioni di glorie passate diciamo auguri auspici che fra i due popoli rinasca un'amicizia una collaborazione una vicinanza e però mentre scrive sa che c'è stato l'omicidio del presidente sa che l'ha ammazzato un italiano sa che in tutta Lione si è scatenata la caccia all'italiano e evidentemente le due cose come dire messe così così vicino nello stesso momento fanno a cazzotti e allora immagino che lui smetta di scrivere e cerca una chiusa che provi a mettere insieme questi due aspetti che provi se non a spiegarli almeno a farli capire in qualche modo e forse gli passa per la testa che in qualche modo un paese vuole usare l'altro per esorcizzare vizi e debolezze che sente anche propri o forse intuisce che i risentimenti così accaniti si hanno solo fra chi ha condiviso molto o ha condiviso troppo e però non gli viene niente guarda l'ora deve chiudere questo maledetto pezzo prende la penna e butta giù un escamotage che però a me vale di salvacondotto diciamo per le cose che vi ho detto fino adesso e scrive infortuni infortuni historien chi dovrò fare della lumiere e della verità sur tout cela allora merci le mille e grazie a voi dell'attenzione lo stereotipo lo schema la struttura mentale dietro ci sono sempre degli interessi che muovono che fanno ritornare alla luce strutture precedenti o ne producono di nuove e in questo senso appunto l'Italia al di là dello stereotipo che poteva evocare ha potuto suscitare e creare nella stessa Francia conflitti e contrasti per l'appunto di interessi e di posizioni culturali